Non dà mai fastidio, qui sono quelle attaccate, che si attacca nei tronchi, solo se li passi vicino. Dove c'è l'albero della strega? Vedete tutte le mosche che ci sono attaccate là sotto? Ma non dà fastidio, mai hanno fatto fastidio, solo i maiali qua dà fastidio. Ma i maiali sono spariti, lo sai? Non ce ne sono più, no, no, è completamente distrutto questa zona. Ma prima lo c'è. Non veniamo più in campeggia. Potresti venire tranquilla che non... Oh, di domani, ma prima non c'era una cisterna. Ma anche tu che hai raccogliato la bambina. Quante notte manca, Antonella, correndo già. Quante notte manca, Antonella, se vengono pagliato il micro. C'è l'allarme, ti ricordo. Oh, sindaco. Si vendeva l'acqua. Non sa le macchine. Ho fatto tutte queste etichette, ce ne sono tre con l'etichetta Adrera. Quello è il vino. O è acqua o vino? O è acqua, bella cortesia. Quella è acqua. Che era? Non è acqua. Sembra acqua. Se ne scolate, c'è la seconda bottiglia. C'è ancora un piatto. No, è vino, è vino. Lei, stai. No, la mia. Pettine, non le colezze altre. Io mi sto riprendendo. C'è ancora un po' di cinghiali. Sì. È molto gusto. Quanto sei grande. C'erano cinghiali? Il cane c'erano. No, c'erano anche dei maiali. C'erano i maiali grossi, vi ricordo. Quelli grossi. Che maiali si fa paura. Un tanto si avvicinavano. C'erano la piazzetta. Porcela. Tra i pomo. L'umacchia. 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 L'umacchia però solo in verde. Allora, l'umacchia. Abbiamo ugualmente le pietine impanate. Ne abbiamo raccolte l'altro giorno un po'. Ma sono piccole, piccole. Non ce ne sono. Noi lo sai che siamo andati, non ne abbiamo trovato niente. Ok, poi se possiamo giare lo stesso. Perché evidentemente non ha più avuto. queste non le hanno mangiate, si sono attaccate e non sono cresciute. Ma non sai che noi non ne abbiamo trovato niente? Le piccole né grandi. Eh, non ce ne ho detto. Anche Napoli. Non hanno pascolato, infatti sono attaccate già chiuse. Piccole piccole. Morte. Comunque le stiamo desiderando un po' le raccolte. Marco. Marco, porta la torta che qua c'è fame. C'è, la sua ciocca è. La sua ciocca è. C'è, la torta. Guarda che ciocchita è. Aia, aia, la ciocchita non ce ne frega niente. Mica se non so sarebbe. Ciocci, lasciala a Chiara che ha preso. Vai e prendita la roba. Ciocci, porta la torta. No, Chiara, che pensate. Facciamo una gita alla camera di Stato per vedere cosa c'è. Ci sono i danuro. A merendio, bambini. Zucca, mi volete. A merendio. Qui, Ciccia, passa il giro. Fai il giro. Chi non ha preso la torta? Le candeline ha preso, lei. Per chi? Per i nostri compiuti. La Fiffa, è sempre Fiffa. Ma quest'anno è bravo. La Fiffa, è internazionale. Ma perché sei... Io sono Fiffo, io sono molto prudente. Troppo prudente. Ma non Fiffona. Di dietro. Chiudi, amore, chiudi. Lì l'hanno lasciata. No, questa è Fiffa, cosa ha prudente. Fa questo contello che non c'è. Non c'è. Si. Canta la canzone di... Un certo punto. Beh, io il primo a viaggiare, eh, notissimo. La canzone è top gun. Guarda, io avevo paura dell'aereo, dopo la trasvolata che ho fatto... Eh, non ho avuto paura. C'è, ma stai coprendo il coso... L'autofocus. In certo punto, l'aereo che... Mi sballottava. Dopo cosa... Sempre lo hai prendato. Cammina. Ma ora non bagnarti, eh. bella, a me la seconda a me la seconda a me c'è una salvezza a me c'è una bella di alborea c'è la scelta si c'era la scelta tutta qua a me no io non no mamma non giate le foca perché sennò stanno a te pisciato il letto a dove te lo puoi portare se tu vuoi uscire con le scarpe guarda 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 a io morti che bravo a chiama come tre guarda fiovere fiovere bello si ricopi le domande è lunga, è lunga chiudi ma chiudi il corpo le piedi wow sta fiovello no mi le piedi aiuto si E' ready? Si Buona pioggia Marco Ma cosa sta aggrandinando? Prova, prova Dove? Vieni a farti la duccia Vieni a farti un giro lì? Dai Aio uscite qua Vai 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 mi sto bagnando, chiudi giusto va, chiudi va, e non chiude, va chiudi, io stavo la scuola, andiamoci via, vai, fra l'entra che chiudiamo, no, 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 è Marco, guarda l'acqua, guarda l'acqua, guarda l'acqua, andiamoci, il pallone, il melone, tieni pianolina, mettilo lì un'altra, guarda l'acqua cos'è, chiamano, imamico, tu sei fatto C'è l'abbò che non è pure così? Non so. No, no. No, ok. Ma! C'è Fabio? C'è un tema? Non so. Non so. C'è un tema? Dai, oh! Non so. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.